Ciao cacciondi! Cosa pensa questo gecgino qua, Alexa? Aspetta un attimo, cosa si chiama? Della nostra spalla. Volete sapere? Allora, restate qui. Vamonos! Alexa, cosa ne pensi della spalla? Che le manca grinta ai calciatori? Alexa, cosa pensano i calciatori della spalla mentre giocano? Presta attenzione, ti faccio vedere subito. Alexa, perché vi Cari fa sempre autogol? Perché pagato dalle squadre avversari? No, 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 dai! Alexa, grazie! Cacciondi, questo è quello che dice e pensa Alexa. Ci vediamo alla prossima! Mi raccomando, se lo lavan!